L'overcapacity nella produzione mondiale di acciaio resta una piaga purtroppo ancora irrisolta. Lo ha certificato anche quest'anno il Global Forum on the Steel Access Capacity che pochi giorni fa ha tenuto la sua riunione annuale. Il problema però è che a questa questione non si vede ancora una soluzione. Non si vede una soluzione perché? Perché non c'è un organismo a livello mondiale che possa porvi rimedio, abbia l'autorità di poter intervenire o meglio in linea teorica avrebbe dovuto essere proprio il Global Forum nel momento della sua istituzione nel 2016 voluta dal G20. Al lato pratico il sistema non è mai decollato. L'idea era di dare vita un organismo che attraverso il confronto tra i vari stati coinvolti potesse arrivare a una sorta di piano d'avignon mondiale in cui ogni paese rinunciava a una parte della sua capacità produttiva per riportare il sistema in equilibrio. Questo non si è mai verificato e sarà sempre più difficile che si verifichi in futuro nel momento in cui dal Forum negli ultimi anni sono usciti Cina, India e Arabia Saudita che sono proprio tre dei paesi che stanno incrementando maggiormente la capacità produttiva installando nuovi impianti e di fatto i 29 membri che sono rimasti poco hanno da fare per porre rimedio al problema. Al momento la sua capacità installata è stimata intorno ai 606 milioni di tonnellate a fronte di una produzione dati 2019 da un miliardo e tre. Ciò vuol dire che il mondo sta utilizzando solo due terzi degli impianti per la produzione di acciaio che sono stati installati nel corso degli anni. Resta quindi chiaro che nonostante Covid abbia un po' ridimensionato la situazione grazie al calo della domanda, quindi ognuno ha riadeguato il proprio output a quanto la domanda è calata, una sovrapproduzione di un terzo del mondo tornerà a farsi sentire nel momento in cui la domanda tornerà a tirare e quindi il mercato avrà bisogno di materiale, andando ovviamente poi ad incidere sul prezzo e quindi su tutte le economie riportando in auge il ciclo che abbiamo visto negli anni scorsi. Grazie. Grazie.